Buonasera e benvenuti a tutti. Continua il nostro viaggio alla scoperta del Medioevo, di un'epoca particolarmente ricca di inventiva e di scambi. Proseguiamo un po' da dove ci eravamo lasciati nell'incontro scorso dove abbiamo parlato anche dell'invasione dell'Occidente da parte di popoli alla ricerca di un mondo nuovo, di un mondo migliore e questa sera invece affronteremo il tema di un continuo scambio dal punto di vista dei tessuti tra il mondo occidentale e il mondo orientale e ci accompagnerà in questo viaggio il dottor Gianluca Bovenzi che è un gradito ritorno a Legnarello perché l'anno scorso aveva concluso il ciclo di conferenze con un interessante bellissimo intervento l'ultima sera e questa sera ci accompagnerà ancora in questo viaggio. Non approfitto per salutare e ringraziare il Presidente Famiglia Legnanese Gianfranco Bononi, Cavaliere Carroccio Mino Colombo e tutte le persone che questa sera seguono la diretta streaming sulla nostra pagina Facebook grazie alla saga multimedia che ci permette di arrivare un po' a tutti con delle dirette che hanno comunque un grande successo. Lascio quindi la parola subito ad Amanda che ci presenterà il romanzo della serata La Dama e l'unicorno e ci presenterà poi Gianluca Bovenzi che ci accompagnerà in questo viaggio. Buona ascolta a tutti e buona serata. Buonasera, buonasera a tutti. Un attimo che io devo... ce l'ho fatta, sono diventata brava la terza volta. Buonasera, allora come sempre a me tocca rompere il ghiaccio raccontandovi qualcosa che è inerente al tema della serata anche se non precisissimo. Questa sera con il dottor Marinoni, con Alessio abbiamo deciso di fare un salto in avanti. Queste conferenze parlano di Medioevo, il romanzo è nel basso Medioevo, inizio rinascimento, ambientato per cui un pochino più avanti ma il tema è veramente centrato. La Dama e l'unicorno è un romanzo bellissimo di Tracy Chevalier che è un'autrice americana che scrive romanzi storici veramente belli. Se avete occasione il più famoso è La ragazza con l'orecchino di perla perché da lì hanno tratto un film altrettanto celebre però è veramente un'autrice molto molto brava che sa intanto fare ottima ricerca e poi calarsi veramente nella mente dei personaggi. In questo caso siamo nella Francia, proprio a Parigi, del 1490. Tutto si svolge fra la quaresima del 1490 e quella del 1492. Siamo a casa di Jean Leviste che è un nobile per diritto acquisito grazie a matrimonio. Intanto partiamo da dire una cosa, questo romanzo si basa su una cosa vera, si basa su un reale arazzo esistente che si chiama La Dama e l'unicorno, commissionato da una famiglia realmente esistente che era quella dei La Viste. Per cui da qui partiamo con quello che è reale. Esiste dunque una famiglia nobile francese del 400 che commissionò questo fantastico arazzo che esiste ancora, che è tuttora conservato dopo un bellissimo ristauro al Museo di Cluny, che è un museo di arti medievali proprio, che ha avuto traversie incredibili nei secoli e addirittura nell'Ottocento il restauro è stato fortemente voluto dalla poetessa George Sand, per cui ha veramente girato il mondo, è arrivato negli Stati Uniti. Trezzi, che innamorata di questa dama e l'unicorno, ha deciso di inventarsi, partendo dai documenti, quella che poteva essere stata la genesi di questo arazzo. Ed è per questo che dico questo romanzo si unisce bene al tema di cui parleremo stasera, anche perché troveremo un sacco di contaminazioni e adesso vi spiego perché. Dicevo, Jean La Viste è un nobile che ha ottenuto questo titolo grazie al matrimonio con Geneviève de Nanterre, perché lui sostanzialmente era figlio di mercanti, mercanti potenti, ricchi, possidenti di terre, che come a volte usava finivano per sposare le figlie femmine di nobili che se no avrebbero avuto come unico destino se non un matrimonio migliore ovviamente il convento. Con questo acquisisce il titolo, acquisisce una posizione a corte di Luigi XI, è bravissimo a farsi carriera anche lì, diventa un consigliere molto apprezzato, solo che questa mancanza di nobiltà in origine pesa, brucia, perché è un uomo estremamente ambizioso e gli scotta non essere proprio esattamente considerato come gli altri. Dunque il tentativo è quello di fare in modo che la nobiltà acquisita, il suo stemma, il suo nome, vengano comunque ricordati e uno dei modi principali è quello di lasciare, appunto, di fare in modo che la propria casa, le proprie terre vengano marchiate dall'ostema di famiglia. E una delle cose che può fare è appunto abbellire la Magione che ha preso appena fuori Parigi, perché in quanto non nobile non riesce a vivere vicino alla corte, è appena fuori, per cui non proprio vicinissimo la scusa che è più vicino a una delle chiese che la moglie preferisce frequentare, però diciamo che è lo Stato che non gli consente di stare dove vorrebbe. Per abbellire la sala decide di commissionare questi arazzi, una sala grandissima, immaginatevi il 400 fa freddo, per cui le mura sono umide, vanno coperte e l'arte dell'arazzo era fondamentale in questo tipo di situazioni. In origine Jean Leviste e i documenti lo dicono aveva chiesto, non sappiamo chi, la nostra tre si inventa un pittore che si chiama Nicolas de Zinosa, si chiede una raffigurazione di battaglia, la battaglia di Nancy, dove appunto avrebbe potuto inserire bandiere, stemmi e tutto facendosi passare per un fantastico condottiero che aveva aiutato il re Luigi ovviamente a vincere la battaglia di Nancy. Solo che la moglie, Genevieve, chiede che questo soggetto venga cambiato perché dato che loro hanno solo tre femmine, lei non è riuscita a dare l'erede maschio, dunque questi i razzi andranno poi in dote alla prima figlia quando si sposerà e fa non voglio che mia figlia abbia tutta la vita sotto gli occhi immagini di sangue e violenza. La prima figlia si chiama Claude, la seconda si chiama Jean, sono nomi che possono essere usati anche per dei maschi, questo tanto per farvi capire quanto a Jean Leviste poco andasse d'accordo il fatto di aver avuto solo figlie femmine. La terza si era assegnato, l'ha chiamato Genevieve come la moglie e ha detto tanto ormai pace. Claude non è esattamente una ragazza facile, è una ragazza che accetta di mala voglia il ruolo che le viene dato, ovvero di vergine pura e che deve mantenere la sua onestà e spiritualità in attesa dell'uomo che dovrebbe a sua volta ancora portare avanti il nome di famiglia e aumentare i quarti di nobiltà e diciamo che è un tipo abbastanza, come dire, allegro. E il fatto di trovarsi il pittore in casa a cui vengono commissionati gli arazzi la porta a essere ancora più allegra. La mamma, che non è esattamente come la figlia, a parte ovviamente cercare di tenerla buona, decide di fare in modo che questi arazzi diventino una lezione e chiede al nostro bravo Nicolà di convincere il marito a rinunciare alla battaglia e di rappresentare una dama e l'unicorno. Ora, l'unicorno ha una serie di significati allegorici estremamente diversi perché è considerato simbolo di purezza. Sì, tradizione voleva che l'unicorno potesse col proprio corno ripurificare le acque inquinate. È simbolo di estrema nobiltà, è simbolo di estrema velocità, è anche simbolo di una serie di allusioni che io non vi spiego ma suppongo voi possiate arrivarci perfettamente. Quindi diciamo che poteva essere inteso in tanti modi. La nostra Genevieve vuole che questi arazzi rappresentino una dama che seduce l'unicorno ma nel suo intento è che la seduzione sia quella dello spirito che riesce ad omare la carne. Ovviamente Nicolà, il nostro pittore che ha visto Claude e che ha già ingravidato una fantesca, ha già praticamente girato mezza casa delle signore, ha tutt'altro obiettivo. Però comunque il compito è quello di portare a termine quest'opera. Opera che verrà poi, come dire, venduta a Jean Leviste al committente in questo modo. L'unicorno è l'animale più veloce. Velocità in francese si può dire anche Viste. Dunque se noi parliamo di un unicorno penseremo alla velocità. La velocità è Viste, se vediamo la Viste pensiamo alle Viste. Dunque l'unicorno è il simbolo del vostro cognome. Sostanzialmente a Jean Leviste la domanda che fa è ci sono i simboli? Sì. Ci mettete gli standardi? Sì. Allora fate quello che volete. Fine. E soprattutto deve costare poco perché essendo un nobile, non nobile, ma soprattutto un mercante, è una persona che intende ovviamente cercare di risparmiare il più possibile. Viene data questa commissione bellissima, ovviamente non viene fatto in Francia. Ecco, questa è tutta una parte del romanzo che racconta l'arte della tessitura, che è meravigliosa, portata avanti a Bruxelles. Molto probabilmente la vera dama e unicorno è stata tessuta a Bruxelles o comunque nei paesi fiamminghi perché da lì venivano i lavori più belli. I cotoni venivano da tutto il mondo. Le tinture venivano fatte lì e si passava veramente dall'oro all'argento, al celeste, al rosso. Erano coloratissimi. Era anche il modo per decorare le case senza doverle affrescare. Dunque in un certo senso erano costosi ma meno cari che non un affresco fatto stanza per stanza. Una particolarità è che però il nostro Nicolà non è un pittore di questo tipo di settore perché comunque alla fine ognuno poi ha una sua specialità. È un miniaturista. Dunque lui si guadagna da vivere sostanzialmente, lo dico per i ragazzi, voi immaginatevi quelli che oggi sono i fotografi che fanno i matrimoni. Dunque quelli che vanno nelle varie cerimonie e fanno la foto ricordo e la cresima, la comunione eccetera. Lui faceva la stessa cosa, faceva miniature per le famiglie nobili che celebrassero i momenti, il matrimonio, il fidanzamento e il momento importante. Per cui è abituato a lavorare nelle cose molto piccole, molto delicate, molto proprio minute e l'idea di lavorare su quello che dovrebbe coprire pareti da 6-7 metri per 4 metri di altezza ovviamente è tutta una cosa che è fuori dalla sua norma. Quando chiede alla dama Genevieve perché ha scelto me, la risposta è che nelle sue miniature le riesce a leggere lo spirito delle persone. Io voglio che nei ritratti della dama ci sia lo spirito delle mie figlie e infatti in questi ritratti le dame saranno quattro, saranno quattro agli arazzi, quattro come i sensi per cui ci sarà la dama del gusto, del tatto, della vista e dell'olfatto e avranno quattro visi molto riconoscibili. Uno sarà quello della nostra Claude e uno sarà invece quello della mamma di Genevieve, delle altre due non ve lo dico perché se volete andate a leggervi il romanzo, però questa cosa vi porterà a Bruxelles dove poi arriveranno, dove dovrà andare anche Nicolà. E vi stavo raccontando che appunto è molto bello vedere come in questo piccolo mondo che è quello dei tessitori si intrecciano un sacco di cose, soprattutto l'arte della tessitura viene tramandata di padre in figlio, all'epoca il 400 è il periodo delle gilde per cui delle associazioni di, potremmo dire, le associazioni di categoria per cui la gilda dei tintori, la gilda dei tessitori, la gilda delle varie attività che regola il lavoro in maniera molto molto rigida, con tanti turni di riposo, con tutta una serie di cose da rispettare. Questa commissione è particolare perché Jean Leviste vuole questi ritratti nell'arco di due anni, siamo nel quaresimo del 1490, lui li vuole per il Natale del 92. E' una cosa detto da tutti impossibile perché è un lavoro enorme, gli arazzi venivano tessuti ovviamente a mano, veniva tessuto solo un pezzettino, la fila che si vedeva nel telaio veniva fatta ovviamente riga per riga, si lavorava a rovescio per cui non vedevano il lavoro che facevano, basandosi su dei cartoni dipinditi ingranditi che venivano appoggiati sotto, poi vi leggo un brano per darvi un'idea. Quindi per un unico tessitore un lavoro di questa proporzione era una cosa immane, da fare in due anni sembrava impossibile, a un certo punto i due anni diventeranno un anno e mezzo, quindi potete immaginare cosa, come sconvolgono la vita di questo posto e quanti decisioni dovranno prendere per riuscire a portare a termine questa commessa. La casa del tintore è la casa di Georges, questo tintore che lavora con il figlio, Georges Lejeune, il giovane, ma anche con la moglie Christine e con la figlia Aliénor. Aliénor è una ragazza cieca, eppure lavora come nell'azienda diciamo di famiglia, perché ha una capacità incredibile al tatto tale da riuscire a cucire i figli l'uno all'altro dove ci sono le giunture dei colori, sentendo nelle dita la differenza di colore. La magia che riesce a fare Aliénor porta ad avere degli arazzi che hanno una qualità che tutti gli altri non riescono ad avere. Le dame di questi disegni, le quattro dame degli quattro arazzi affascineranno questo tessitore al punto di accettare una sfida che sembra impossibile e coinvolgeranno tutti, tutta la famiglia e affascineranno questi volti e quelli che poi verranno tutti in una trama che vi porta veramente a finire il libro in un attimo senza darvi un attimo di respiro. Di certo tante donne e tante donne protagoniste perché comunque alla fine sono il motore del mondo e se alla fine Nicolà cerca di portare avanti questo lavoro per pensare, di sperare di avere una possibilità con la donna troppo nobile per lui, perché comunque è cosciente di non poterlo fare, dall'altra parte abbiamo invece donne lavoratrici che vedono in questa occasione un'occasione di riscatto per tutta la famiglia e potrebbe essere effettivamente molto importante, per cui è un romanzo anche di scelte e di sacrifici. Una cosa molto bella è che tutti i capitoli sono raccontati in prima persona da un personaggio diverso, per cui questa storia la vedete raccontata dalla signora, da Genevieve che spiega le sue scelte, dalla figlia Claude, ovviamente in piena contestazione perché è una quindicenne e potrebbe essere nata ieri, le quindicenni che avete in casa a voi uguale, non abbiamo inventato niente come dico spesso, dal nostro pittore, dal nostro Nicolà Desindos anche col suo carattere un po' come dire allegrotto e poco incline alla riflessione e da tutta la famiglia dei tessitori, per cui si vede tutta l'opera costruita filo dopo filo, intreccio troppo intreccio, porta a arrivare alla fine di questo lavoro e anche all'intreccio di vite che non si sarebbero mai incrociate. Basta, lascio poi la parola al nostro ospite, vi leggo proprio un pezzettino piccolo come ho fatto l'altra volta, giusto per darvi un po' l'idea. Allora, siamo all'inizio quando Nicolà va a presentare il progetto a Bruxelles e la famiglia dei tessitori sta chiudendo il lavoro precedente, sta finendo l'arazzo che stanno finendo di lavorare. Siamo ormai pronti a tagliare l'arazzo, è sempre un bel giorno per il tessitore. Il pezzo su cui è lavorato tanto a lungo, otto mesi per un solo arazzo in questo caso, può finalmente essere tolto dal telaio. Mentre lavoriamo abbiamo sotto gli occhi solo una striscia di stoffa della lunghezza di una mano, che viene via via arrotolata sul subio e vediamo l'arazzo tutto intero solo quando è finito. Inoltre, lavoriamo sul rovescio del tessuto, così per verificare la buona riuscita del disegno dobbiamo infilare uno specchio sotto l'arazzo. Insomma, soltanto quando lo tagliamo e lo stendiamo sul pavimento riusciamo a vedere l'arazzo nel suo insieme e dalla parte giusta. Allora rimaniamo a guardarlo in silenzio. In quel momento è come mangiare ravanelli appena colti dopo mesi di rape avvizzite. Capita a volte che il cliente non versi un quattrino di anticipo, mentre i tintori, i mercanti di lana e di seta, i venditori di filo dorato esigono pagamenti che io non sono in grado di sostenere. E magari i tessitori che ho assoldato si rifiutano di mettere mano all'opera se prima non vedono i denari. E intanto Christine non fa che ripetermi che la minestra è sempre più acquosa. In quei momenti è solo la consapevolezza che un giorno poter godere di questo silenzio incantato a farmi andare avanti. Ecco, questo è quello che succede in casa di un tessitore nel 1490. E con questo io ho finito. Lascio la parola allora al nostro ospite, Gianluca Bovenzi, storico del tessuto. Dopo la laurea in lettere moderna dedicate al paramentale di Giuliano e Domenico della Rovere, conseguita presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di Torino, si è dedicato allo studio dei tessili dei ricami, prendendo parte ai progetti di schedatura sul territorio e collaborando con alcuni musei piemontesi, valdostani e lombardi. I suoi studi sono confluiti presso cataloghi di mostre allestite in Piemonte, Valdosta e Lombardia e volumi dedicati al panorama artistico del nord Italia. Dal 2012 è membro del Sietà di Lione, perdonatemi. Collabora stabilmente con il Museo Palazzo Morando, costume, moda e immagine di Milano, dove attualmente è curatore della mostra Outfit 900, abiti per le grandi occasioni nella moda di Palazzo Morando. Grazie. Buonasera a tutti, ringrazio la Contrada per il piacevolissimo invito e ringrazio tutti voi presenti. Questa sarà una passeggiata, spero non troppo lunga, in un mondo fatto di scambi, quello tra l'Estremo Oriente e l'Occidente, che vede come elemento base la seta. E parlando del rapporto tra Oriente e Occidente, di solito viene in mente immagini simili. Lei Camille Monet, la compagna e moglie del più famoso pittore Monet, e vedete come siamo nel 1976, lei è completamente travestita da giapponese, con i kimono, i ventagli, eccetera. Una moda che conquisterà buona parte dell'Europa, che usa ciò che viene dal Giappone, dalla Cina, facendoselo proprio. Qua vedete come non è più un kimono, ma è un abito realizzato partendo da un kimono. E questo vi fa capire come la cultura giapponese, che per la prima volta si apre all'Europa abbia colpito le menti più alte, quella che oggi sarebbe l'intelligenza europea. Faccio scorrere degli esempi di abiti ricavati da kimono. Wart, uno tra i più, anzi il più importante stilista attivo tra 8 e 900, è lui che veste tutte le corte europee, è lui che passa dalla crinolina alla semicrinolina, eccetera. Qua vedete come nel 1994 l'abito riprende il tema orientale del sole raggiato. L'idea di collocare i decori in basso o in alto non è occidentale, è dell'estremo oriente, come l'idea della simmetria non è occidentale. Noi siamo della cultura della simmetria, ciò che a destra avviene a sinistra. È la cultura orientale che invece ci fa scoprire che possono essere due mondi paralleli. O l'importanza della schiena, che è tipica dell'estremo oriente e non dell'occidente. Oppure in questo caso l'abito è ricavato smontando un kimono vero. Quindi da quello che era già costituito veniva smontato per riadattarlo al gusto occidentale. Ma spesso noi ci preoccupiamo di vedere cosa succede da noi, dimenticandoci che anche da loro succedeva la stessa cosa. Abituati alla cultura dell'estremo oriente, l'occidente appare come novità. Questa infatti è una stampa del 1888 in cui mostra giapponesi vestiti all'occidentale. Questa è una foto che sia vestita all'occidentale, ce lo dice il confronto con abiti reali o con dipinti occidentali. Qua è tisso, vedete come la cultura estetica è la stessa. Ci attira sempre la novità, lo sconosciuto. Nell'Ottocento ma anche andando indietro. Questa è stata una scoperta fatta due giorni fa andando a cercare altro. 853 crinoline, ma se vedete cosa ha appoggiato sul tavolino è uno scialle con figurette giapponesi. Oppure, qua siamo a passeggio e vedete come sempre uno scialle con piccole figure giapponesi. O ancora, questo è un oriente un po' più vicino a noi, è il Tibet, il Kashmir, questi scialli con questi motivi a gocce che caratterizzano la moda degli iniziati, dell'Ottocento, che aveva una funzione anche pratica. Queste signore andavano in giro vestite prima di mussola e poi di seta, così a dicembre a Parigi. E come potete ben capire, vestirsi così a dicembre a Parigi si moriva di broncopolmonite dopo due minuti. Anche perché la consitudine era per avere l'abito molto aderente di bagnarsi dopo averlo indossato. Negli anni 70 i jeans dovevano essere talmente stretti che se li si indossava e poi si faceva il bagno, quindi non è stato inventato nulla. Per evitare che queste povere signoragazze morissero a vent'anni di broncopolmonite, fu introdotta la moda dello scialle di Kashmir, quello che vedete qua bianco, che nasce come indumento maschile indiano che doveva essere avvolto intorno alla vita. Era una striscia lunga, tre metri per un e mezzo, fatto col vero Kashmir, che non è quello che compriamo a 5 euro sulle bancarelle, ma è tutt'altro. Questa lana di una pecora selvaggia che si raccoglie durante la muta, quindi quello che lascia quando muta viene raccolto tessuto, realizzati questi scialli, che è vero che passano attraverso una fede maschile. La prova della qualità è farli passare in quest'anello, anche perché se devono essere avvolto intorno alla vita non devono essere troppo spessi. Scialli, ho ancora nel Settecento i famosissimi gabinetti cinesi, qua siamo a Palazzo Reale a Torino, ciò che non veniva dal Giappone perché non ce n'era abbastanza, veniva fatto in Piemonte. Il problema è che non sappiamo le differenze tra ciò che si faceva in Giappone o in Cina e ciò che ci faceva in Piemonte, perché in Cina è andato tutto distrutto e quindi non si sa quali siano le caratteristiche che differenziano le due lavorazioni. Ho ancora la cultura delle cineserie. Qua vedete come abbiamo il tessuto, quello rosa, che richiama questa idea dei ponti sospesi, di queste immagini di un mondo irreale perché sconosciuto. Andavano poche persone, un viaggio in media durava un anno andato, un anno ritorno. Se riuscivano a ritornare in vita e se avevano queste descrizioni più mitiche che reali di questo mondo fantastico, da cui veniva o potevano venire abiti comodi. Lui è un elegantone vestito con la veste da camera. Questo indumento a forma di T, ve ne faccio vedere un po'. Questo è uno tra i più belli e van l'ho e siamo intorno agli anni 30 del 700, 1680 e cos'erano? Kimono, kossode, che avevano la forma T, comoda, in cui l'uomo finalmente poteva avere il lusso di potersi accavallare le braccia, muoversi perché con la marsina non riusciva a fare, quindi una comodità che prima non era ancora conosciuta. E qua vedete com'era un uomo elegante in casa. La sottomarsina, che sarebbe l'antenato del nostro gilet, la cravatta, il calzone, la veste da camera e vedete che ha un turbante in testa, si è tolto la parrucca per comodità e per non aver freddo si è coperto con il turbante, ancora una volta, di origine orientale. E se vedete bene la tipologia del tessuto, è questa qua. Quando si parla di Oriente, chi si occupa di tessuto viene in mente direttamente lui. Provate a descriverlo, è impossibile. Ed infatti la critica li ha definiti bizzarri. Perché sono al di fuori di qualsiasi comprensione, elemento conosciuto in ambito occidentale. Anche soltanto tentare di capire chi fa cosa è impossibile. Se noi infatti seguiamo i singoli elementi, vediamo come questa sorta di uccello trafora questa forma, trafora quest'altra forma, ma vedete come è lui. Si va da inseguire. Poiché forme siano, non si sa. Siamo agli inizi del Settecento in questo caso. Un'ipotesi molto divertente, data da una tra le massime studiose del settore, la Doretta d'Avanzo Poli, ha notato che questi tessuti sono prodotti a Venezia. E negli stessi anni a Venezia la curva medica più diffusa era a base doppio. Quindi probabilmente avevano una visione un po' sfalsata della realtà e quindi che potevano interpretare questi stessi decori. che troviamo anche in ambito femminile, il mantò. Vedete con questi enormi ananas, che per noi sono ovvi, ma pensate alla persona del Settecento che per prima volta vedeva questo strano frutto con un cespuglio in testa. Versione pittorica per vedere come la pittura si rifà sempre a quello che esiste. Questo è divertentissimo perché ancora una volta è una specie di spazzola balena che con delle sorte di nappe si decora, si intreccia, si trafigge le alghe che vanno a intrappolarsi nella coda o queste tre penne di pavone la cui funzione non è ben chiara, decori che potevano essere collocate anche su abiti liturgici. Vedete che questo ricamo è fatto appositamente per secondare la forma della veste. Quindi vuol dire che a un certo punto, agli inizi del Settecento, un prete celebrava con questo addosso. Ed ecco l'origine. Questo è il Vogue della fine del Seicento del Kimono. Era un manuale in cui gli autori del Kimono mostravano i propri modelli. e vedete come sono tutti asimmetrici. Molto spesso erano ricami e pittura che permettevano anche questa enorme libertà nella disposizione dei decori. Ho tessuti simili. Vado abbastanza veloce. Il cui richiamo era questo. Erano le porcellane. Le porcellane che fino agli inizi del Settecento erano conosciute ma non prodotte in Occidente. Che non si riusciva a scoprire il segreto del caulino. Ho questa. Con questo motivo ad Ameba, a Medusa. che ritorna questo sembra futurismo puro peccato che sia agli inizi del Settecento. Conservato a Londra, al Vittorio and Albert ma di mano probabilmente francese. Vedete come ritorna il motivo di questa sorta di elemento naturale non ben identificabile. Ho qua che per esempio abbiamo queste enormi farfalle meccaniche che ricordano quasi un film inizio Novecento ma siamo due secoli prima. Ancora indietro stiamo facendo un passo una passeggiata ritroso per vedere i collegamenti tra Estremo Occidente ed Estremo Oriente. Per noi è un tessuto abbastanza ovvio. Ma in quanti quadri abbiamo visto un motivo a zizzag? Perché ancora una volta il motivo a zizzag non è nostro ma deriva dalla cultura orientale. Questo è una veste teatrale siamo nel Cinquecento e se notate ritorna questo motivo motivo a zizzag? Motivo zizzag che ogni tanto emerge anche sui tessuti qua siamo agli inizi del Seicento è un velluto nero o nei ritratti. Qua vedete come questo motivo a zizzag è fatto probabilmente con questi piccoli galloni. Non vi stupite se leggete il ritratto di Fanciullo e vedete lui con la gonna perché secondo una consuetudine fino a tutto Seicento i bambini avevano questa piccola veste con il farsetto molto aderente e con le falde molto ampie che permettevano ai bambini di camminare liberamente. Poi intorno ai 5-6 anni il bambino si vestiva da uomo e la bambina da donna. Se dovevano diventare preti o suore si vestivano da preti o da suore. venivano già incanalati fin da piccoli. La monaca di Monza di Manzoni che giocava con la bambola a forma di monaca non è falso era la vita reale. Ed ecco che dal 1630 si passa al 1346 date più vicine alle nostre e notate che il copriletto steso sul letto è proprio quel ha presente un motivo a zizzag. Perché Cina è occidente paolo-veneziano siamo cultura veneziana. come mai si passa nel giro di pochi decenni da questo tipo di decoro non so se vi ricordate l'anno scorso che parlavamo dei decori a rote a cerchi vedete come un'impostazione molto fissa molto rigida in cui l'elemento decorativo è inserito entro delle cornici circolari si passa a decori simili. È passato poco più di un secolo e vedete come cambia completamente tutto perché abbiamo la cosiddetta via della seta cioè una serie di strade di comunicazioni che possono essere via terra o via mare che collega l'estremo oriente all'occidente. Vi ho detto che questo era un viaggio per cui ci si metteva circa un anno andata e un anno a ritorno. uno tra i viaggiatori più illustri Marco Polo che è partito intorno agli anni settanta del duecento e ritornato venticinque anni dopo e tramite i suoi racconti il famoso milione che per secoli si è pensato essere anche fantascienza l'occidente aveva un contatto con questo mondo misterioso che se per noi con tre ore possiamo andare dall'altra parte del mondo è già confuso perché se io vi dico dove è la Cina dove è il Tibet dove è l'Afghanistan dove è tanti paesi noi non li riusciamo a collocare con esattezza pensate ad una persona che ci metteva sei mesi per fare Genova Bruxelles parlando di Arazzi se io facevo fare l'Arazzo Bruxelles per arrivare a Genova ci mettevo sei mesi di tempo ci mettevo quasi più di viaggio che di esucazione di esecuzione dell'Arazzo stesso quindi pensate a quanto doveva apparire affascinante questo mondo che essendo lontano e sconosciuto era perfetto perché ovviamente tutto ciò che noi non conosciamo o i distanti risulta essere perfetto pensiamo al nostro mitico passato per cui tutto non succedeva e tutto succede oggi perché in realtà lo filtriamo e così come veniva filtrato questo mondo da cui venivano le lacche le porcellane la stampa e tanti altri elementi seta che attenzione non era sconosciuta dagli antichi romani questo è un affresco ante 79 perché è stato trovato a Stabbia quindi prima dell'eruzione e vedete come gli abiti sono molto trasparenti questa trasparenza non si può ottenere con lino o la lana o il cotone lo usavano poco lino o lana ma solo con la seta una seta che agli antichi romani non piaceva assolutamente perché era considerata troppo leggera quasi femminia nel senso negativo che si può dare a questo termine e che veniva criticata attenzione i romani conoscevano la tessitura della seta ma una seta particolare ottenuta dai bozzoli rotti e quindi molto grezza e infatti loro pensavano che tessuti di seta provenienti dalla Cina provenissero in realtà da o da una lana o da dei filamenti di una corteccia o di una foglia perché loro non avevano mai vista il bozzolo come veniva lavorato sapete come si ricava la seta che dal bozzolo quando c'è dentro ancora quella che poi diventerà la crisalide la butto nell'acqua bollente in modo tale da uccidere la crisalide e poi srotolare filo per filo la qualità della seta che dovrebbe essere filo continuo di solito può raggiungere anche il chilometro di lunghezza l'abilità è non interrompere questo filato tenete conto che l'acqua doveva essere bollente o lavorava a mani nude quindi si aveva anche un problema di ustione questo lavoro lo facevano le donne perché ci voleva la mano delicata seta bisognerà aspettare soltanto il secondo secolo dopo Cristo per capire come si produce e in occidente arriva solo c'è una data esatta 552 dopo Cristo quando chi dice dei monaci chi dice dei persiani la portano a Bisanzio nascondendola nel bastone o nella croce il bozzolo con le uova anzi da cui può far nascere la falena per fare il bozzolo la Cina deteneva il monopolio se scoprivano far uscire il bozzolo tagliavano le mani e t'uccidevano e quindi era molto pericoloso fare questa manovra e come vi ho detto i primi disegni i primi decori li abbiamo visti l'altra volta sono quella forma di rote notate che in Cina abbiamo lo stesso decoro che abbiamo visto prima a differenza di cinque secoli quindi vuol dire che per cinque secoli i decori sono sempre stati gli stessi molto importante un decoro che doveva parlare al pubblico se io mi presento in pubblico con questo tessuto che in realtà poteva essere rosso rosso porpora quindi un rosso molto più cupo voleva dire che ero della famiglia imperiale soltanto la famiglia degli imperiali si poteva permettere di indossare questi abiti in più vedete come se non decori molto statici per un semplice fatto se io devo giudicare una persona dall'estetica questa persona non si può muovere troppo ma deve rimanere immobile perché così io la posso leggere in ogni dettaglio e quindi ecco che questa immobilità è trasmessa anche dal decoro stesso il motivo dell'anello tenuto dal becco lo vedete è proprio tipico dell'impero bizantino o anche quando sono un po' più quotidiani come tessiture come qualità vedete come la tipologia ornamentale non cambia ve ne faccio vedere Lucca dal XII secolo per quello il titolo quando i lucchesi parlavano cinese perché Lucca dal XII secolo è la città più importante per la tessitura di altissimo livello ed è proprio che a Lucca quando iniziano a vedere questa tipologia di ornati iniziano a cambiare visione vedete come il disegno è sempre lo stesso delle medaglie entro cui ci sono elementi contrapposti però vedete tutta la ricchezza ornamentale che c'è intorno e che prima non avevamo assolutamente osservato secondo voi quando i tessitori i commercianti i mercanti italiani hanno iniziato a vedere questi elementi quale deve essere stata la loro risposta di stupore quando mai nei tessuti si erano visti dei draghi volare delle foglie dalle strane forme degli animali per noi impensabili ed ecco che il continuo contatto con questi tessuti contatto dovuto anche alla Pax Mongola c'è un periodo di Pace Mongola che dalla metà del 200 alla metà del 300 grosso modo che permetteva anche un maggior numero di viaggi pensate a Marco Polo lui può fare quel viaggio perché in quel momento c'era pace tra tutti gli stati ed ecco che questi nuovi tessuti questo è un corale del 1289 vedete l'abito del celebrante vedete come ha un drago sotto tessuti che ovviamente influiscono sui decori dei tessuti prodotti in Italia ed ecco che abbiamo animali fantastici cinesi o i fiori di loto che non sono certo occidentali o questo che è divertentissimo immaginate il passaggio tra le rote e questo tessuto in cui abbiamo un'aquila che si lancia verso un leone ma se notate il leone sembra avere una sorta di tutù fatto da raggi ma notate da dove nascono i raggi vedete che qua c'è il simbolo dello ying e dello yang eccolo qua che non è sicuramente occidentale il leone che si sta avventando contro una gazzella attenzione la gazzella è unghiata l'unghia bipartita secondo l'antico testamento è un peccato mangiare sono negativi gli animali con le zampe unghiate e quindi ecco qual è il discorso se lo vogliamo leggere in chiave simbolica e religiosa il bene che lotta contro il male la forza che lotta contro il debole il rapace che lotta contro la piccola il piccolo uccello tutta questa scena che è già piena di vivacità è ancora resa più complessa da questo intrigato disegno di tralci vegetali che un po' annulla tutta la struttura compositiva del tessuto che sembra casuale ancora una volta pensate al passaggio tra le grandi ruote immobili è questo continua lotta passaggio violenza cammino balletto tra i vari elementi si passa dalla società dell'immobilismo io sono nobile quindi non mi muovo alla civiltà di Marco Polo alla civiltà del viaggiatore del mercante che ha successo perché viaggia e quindi ecco che il movimento diventa un elemento positivo non è un elemento negativo come in precedenza un elemento che io lo trasmetto anche tramite i decori tessili qua abbiamo per esempio il solito leone che sta lottando sempre con il solito animale con la zampetta con lo zoccolo a due parti animale che si nasconde sotto questa enorme palma che cade per il peso delle sue foglie e dalle foglie cosa nasce? un sole raggiato cultura ancora una volta cinese Kangrande muore nel 1326 è stato sepolto molto in fretta perché la sua morte era non aspettata ed è stato sepolto con quello che era il suo patrimonio questi tessuti cinesi questi quindi sono tessuti cinesi dell'Asia centrale che sono state trovate nelle sue sepolture quindi di questi sappiamo la provenienza vedete il caos del decoro voi immaginatevi noi abituati con le nostre ruote ad avere questi esempi da copiare o questo che sono attualissimi tra l'altro e questo che vedete è una ricostruzione degli abiti indossati da Kangrande quindi vedete quanto tessuto il costo che doveva avere e l'importanza che doveva avere chi si poteva permettere certi elementi solo due anni di viaggio per averceli ovviamente se c'è la la nobiltà c'è anche la chiesa questa è la cosiddetta dalmatica di Benedetto undicesimo in cui il bianco è cinese e l'azzurro è occidentale è lucchese in questo caso non sono i cinesi a copiare i toscani come si lamentano ma sono i toscani a copiare i cinesi talmente bene che si ingannavano cioè il toscano vendeva per cinesi il tessuto fatto da loro adesso è il cinese che vende come italiano la borsa fatta in Cina è una come abbiamo detto prima la dottoressa è una ruota che gira non abbiamo inventato nulla io copio il prodotto che viene venduto di più nel 1300 il tessuto cinese perché è il tessuto nuovo la seta viene dalla Cina la lavorazione della seta viene dalla Cina ovviamente un tessuto cinese valeva di più e capite come di fronte a questa novità cambia completamente tutto il modo di vedere il tessuto qua abbiamo un leone la faccia molto simpatica che esce da queste medaglioni ma su questo fondo quadrettato vedete come c'è sempre la voglia di confondere di rendere sempre difficile percepire qual è la struttura geometrica del decoro o in questo caso in cui delle palmette reggono una coppia di draghi alati noi facciamo anche nostro i disegni mitologici venuti dalla Cina o guardate questo è un drago che adesso ritorna nei cartoni animati giapponesi per esempio non mi dilungo nelle spiegazioni perché vedete i frammenti sono piccoli perché spesso sono pochi tessuti rimasti sono quelli che vengono dai reliquiari quindi i cassacchettini con cui si celava la reliquia e questo vi fa capire l'importanza del tessuto talmente importante che va a proteggere l'elemento più importante per un cattolico cioè la reliquia del proprio santo qua vedete persino i raggi o questo sembra quasi anni 30 del novecento sembra Liberty perché poi la cultura di riferimento è sempre questa o i draghi lo vedete qua proprio il classico drago che deriva dalla cultura dell'estremo oriente ed ecco qua che pittori si rifanno a quello che hanno visto il bambino il bambino Gesù è avvolto in un drappo alla cinese con tanto di piccole tartarughe le vedete che stanno lottando ed eccolo qua non è lo stesso ma vedete gli stessi elementi che ritornano probabilmente noi abbiamo una minima parte dei tessuti prodotti probabilmente ci si può immaginare che da qualche parte esistesse un tessuto con una piccola tartaruga vedete la capacità di rielaborare poi un decoro che è sempre uguale a se stesso sempre la lotta tra due animali l'elemento vegetale ma vedete con quale fantasia riescono incastrare ogni volta i vari elementi questa è l'overe l'umiltà chiedo scusa per l'errore di battitura vedete la bellezza di questo manto capite che non è di tradizione occidentale ma è di tradizione orientale e questo è sempre dalla sepoltura di Cangrante vedete come i riferimenti potrebbero essere proprio quelli ho questo che proviene da un manto di una madonna vestita ancora una volta vedete che avete la palmetta come nella versione pittorica un altro esempio Paolo Veneziano Paolo Veneziano è stato molto ricco di rappresentazioni tessile e vedete come i decori sono sempre uguali qua vedete come a quest'andamento leggermente a meandro sinuoso ed eccolo qua lo vedete ricordatevelo perché poi ritornerà nella nostra produzione questo motivo sinuoso eccolo qua qua solo questo elemento della palmetta vi fa capire che richiamo non è l'occidente ma l'oriente Venezia Lucca sono le due città che si divinano il monopolio europeo della produzione tessile in questo periodo ed eccolo qua ritrovato in versione pittorica la manta questo ciclo profano databile intorno a 416-20 in Piemonte dove ci mostra è una sfilata di moda in cui vedete come queste eroine indossano il meglio del meglio qua vedete questo tralcio con sotto gli animali adagiati ed eccolo qua quindi vuol dire che i pittori rappresentano quello che vedono e vuol dire che c'era una clientela disposta a indossare addosso una mucca perché questa è una mucca seduta quindi come anche il gusto vada cambiando ho la solita scena qua è cambiata non è più la lotta ma è un animale una sorta di levriero sotto questa enorme palma ma se io avessi soltanto questo disegno lo direi anni 30 del 900 non lo direi degli inizi del 400 talmente moderno anche l'accostamento cromatico ho disegni che a noi ci sembrano banali degli incastri di figure geometriche ed eccoli qua quindi ancora una volta la Spagna è una Spagna ancora legata alla cultura araba non alla cultura occidentale che ci rifà disegni simili o vedete anche il semplice motivo del garofano tra l'altro fiore medio orientale a sua volta una disposizione a scacchiera viene completamente annullata da questi motivi riempitivi che ritornano molto simili e nel manto ma attenzione qua un'altra novità vedete questa scritta che corre intorno al manto che l'abbiamo anche in giotto eccola qua sono le cosiddette scritte cufiche c'è questo alfabeto orientale che viene introdotto nella pittura occidentale in alcuni casi con frasi anche leggibili ed eccolo qua questo è uno tra i pochissimi esempi di disegno tessili della seconda metà del 300 è il cosiddetto taccuino Bellini perché Bellini ci disegna sopra Bellini sposa la figlia di un tessitore quindi probabilmente era materiale di famiglia che girava la carta non veniva buttata ma veniva imbiancata e utilizzata e Bellini decide di lasciare scoperti questi disegni perché forse sono affascinanti per lui eleganti e questi sono tra i rarissimi casi di disegni tessili cioè da questo disegno poi il tessitore procedeva e vedete come abbiamo ancora delle scritte quindi non è l'invenzione di un pittore quella di bordare di una scritta orientale l'immagine della Madonna ma qua abbiamo una casula quindi un abito ecclesiastico confezionato con tessuti con scritte orientali questo viene della sepoltura di un santo ancora una volta scritta orientale perché non si ha ancora una risposta a questa domanda cioè le risposte sono molteplici ho come simbolo di un tessuto orientale quindi io sono potente mi posso permettere un tessuto che proviene dall'Oriente e che se orientale te lo dice il fatto che è una scrittura non occidentale o per motivo decorativo è una grafia molto armoniosa molto elegante che si prestava anche ad essere interpretata in chiave meramente ornamentale oppure un motivo simbolico io rivesto Dio con un elemento di un'altra religione quindi questo vuol dire che la mia religione è superiore alle altre la schiaccia la domina al punto tale di usare i simboli altro che vengono dagli altri e vedete infatti come anche San Gregorio ha la sua scritta cufica scritte cufiche che derivano anche vedete come intorno al piatto abbiamo questa iscrizione quindi che faceva parte del corredo dell'arrivo artistico orientale e che ritorna in questo dipinto del 1516 lo vedete in base ed eccolo qua il tessuto peccato che il tessuto sia fine 3 inizio 400 è proprio lui lo riconoscete anche da questi motivi a stella che ritornano qua eccoli qua vedete come è proprio una rappresentazione perfetta di un tessuto vero quindi il pittore aveva di fronte un esempio da cui poter prendere elemento simbolico abbiamo quasi finito perché questa immagine del 1480 simbolico come poteva essere usare un frammento pagano come mangiatoia per la natività di Gesù Cristo quindi la religione è il nuovo che sovrasta sul vecchio così come potrebbe essere il vecchio comunque la cultura musulmana che è sovrastata da cultura cattolica ovviamente mi riferisco al pensiero trecentesco tessuti così interessanti così magici che ritornano anche quando ormai la moda di questo prima fase di esottismo passa 1511-15 vedete come dietro alla Madonna c'è questo drappo d'onore che ha due tipologie di tessuti la cornice e contemporanea eccola qua richiama più o meno questa tipologia qua siamo 1470-80 ma la parte interna richiama un tessuto precedente perché quest'uso dell'antico in un quadro del 1511 perché quella scena non era contemporanea ma era una scena antica cioè rappresentava il momento di donazione che avvenne nel 200 dei terreni al monastero che aveva commissionato il dipinto vedendo il tessuto antico dietro lo spettatore capiva che non era una scena contemporanea ma una scena protatta nel tempo è come adesso vedere un attore con le zampe con il pantalone non è una zampa di elefante noi capiamo che è in un passato non è nel presente qua vi faccio vedere un po' di immagini di confronto è ancora 1516 questa è datata è datata vedete il drappo che c'è alle spalle questo qua eccolo qua credo scusa questo è il primo esempio di tessuto veneto conosciuto questa è la gondola questi non sono papere sono stato corretto sono degli animali acquatici degli uccelli acquatici che vivono proprio a Venezia nell'acqua e guardate il divertimento delle onde fatte a spirale capite che questo senza Cina non sarebbe mai potuto essere realizzato la domanda per cui nel 1516 periodo in cui si faceva più o meno questo qua siamo 1502 o questo cioè due se fosse usato un tessuto di due secoli precedenti non ha ancora una risposta se la sapete io vi ringrazio noi con questo ho finito se avete domande e curiosità sono a vostra disposizione se no grazie è cinese tenga conto che i rapporti tra Cina e Giappone sono molto stretti parte del Giappone stata cinese eccetera tenete conto che noi abbiamo un concetto del kimono completamente sbagliato rispetto all'uso originale loro ne usavano 4-5 sovrapposti quindi quella che per noi è comodità perché è una grossa T in realtà sono 4 strisce cucite una una per la manica tre e quattro erano si arrivava fino a una decina nei casi di matrimonio ed infatti se vedete delle stampe capite che queste signore erano estremamente appesantite e l'Obi quello che per noi sembra un'elegante cintura annodata dietro in realtà aveva la funzione del nostro busto stringere e tenere dritta il fatto che l'allacciatura sia sulla parte posteriore voleva dire che qualcuno ti aiutava a toglierlo a metterlo nel caso in cui l'allacciatura nella parte anteriore davanti era l'indicazione della professione più antica del mondo perché così te lo sfilavi semplicemente però anche loro avevano l'uso di avere più e più strati anche per giocare poi sull'erotismo ti faccio vedere il quindicesimo strato e se non mi ricordo male uno degli strati sempre nella professione doveva essere rosso la nostra idea di comodità è perché è un'idea filtrata che abbiamo perché noi abbiamo avuto questo kimono ma per un po' non abbiamo capito come veniva indossato l'idea anche delle maniche molto lunghe era un altro modo per limitare i movimenti perché avendo le maniche lunghe soprattutto in un popolo come quello mongolo che era un popolo nomade e quindi che aveva la necessità sì di avere la manica leggermente lunga per permettere di cavalcare anche a climi bassi però che copriva le mani non che continuava la cultura dell'apparenza ha unito sempre tutto il mondo più l'abito era scomodo più voleva dire che tu avevi bisogno di un'altra persona per vivere e quindi voleva dire che eri ricco il piede a fiori di loto cinese 7 cm di piede serviva per anche fermare le donne se la donna non può camminare la controllo una donna con 7 cm di piedi da noi c'erano a Venezia le scarpe che erano 25 cm delle zeppe alte così lo stesso discorso nasce per la comodità delle veneziane di non inzaccherarsi la veste quando camminavano però con 25 cm di zeppa te da solo non cammini quindi avrai bisogno di chi ti sosteneva ovviamente chi ti sosteneva era pagato dal marito e quindi il discorso è sempre chiaro ecco colgo l'occasione che c'è se volete vi aspettiamo a Milano Palazzo Morando per la mostra che è quest'anno presente dedicata al Novecento l'outfit del Novecento Palazzo Morando sì è stata aperta circa prima di dicembre e durerà fino a novembre quindi poi c'eravate anche l'anno scorso capelli sempre uguali lei ha un capello molto cinese per esempio il turchese è un colore cinese perché è il colore che resiste di più correggimi se sbaglio nelle porcellane è quella che è la tonalità più resistente per la porcellana che in realtà per noi la porcellana è bianca e blu per i cinesi la porcellana è bianca e blu era quella più bassa per l'esportazione perché come sempre avevano due produzioni una per l'esportazione di qualità tanto noi occidentali che cosa capivamo quindi andava bene tutto per l'oro invece avevano una produzione molto più alta e allora l'uso dei colori nella porcellana è molto delicata perché la porcellana ha una temperatura di cottura molto alta e i colori non resistono a questa temperatura quindi la porcellana colorata era la più preziosa perché indeboliva la produzione cioè avendo due o tre quattro cotture il rischio di rompere l'oggetto era altissimo se non sbaglio un oggetto su dieci alla fine in alcune lavorazioni finiva il ciclo cioè tu ne iniziavi dieci e ne vendevi uno ovviamente su quello avevi l'incaro di tutti gli altri dieci quindi le porcellane loro sono quelle coloratissime il piatto che vi ho fatto vedere perché era difficile ogni colore se non sbaglio una cottura diversa quindi voleva dire rischiare che l'oggetto si rompesse o i tessuti è la stessa cosa i tessuti che abbiamo visto bizarre sono una lavorazione complessa perché il disegno veniva fatto in occidente su un motivo orientale veniva spedito in Cina e questi poveri cinesi si trovano questo disegno che non capivano e lo rielaboravano una volta rielaborato ritornava in occidente dove è venduto per vero oriente peccato che non sia vero oriente perché un disegno occidentale su un motivo orientale arriva a questi che non lo capiscono lo rielaborano e poi noi lo leggiamo come disegno orientale tenendo conto di questo oriente di cui loro non sanno nulla cioè tutto ciò che è un occidente oriente il limite è facile ringraziamo ancora il professore vi ricordo l'appuntamento fra 15 giorni il 23 febbraio con la professoressa Rosa Maria Martina Iros però l'incontro non sarà qui ma sarà presso la famiglia legnanese che ci ha dato la disponibilità della sala e ringraziamo Franco Bononi e il dottor Mauro Mezzanzanica per questa disponibilità una collaborazione che poi porterà anche al 6 aprile una seconda lezione magistralis però tenuta dal professor Paolo Grillo vi ricordo se siete interessati al romanzo della serata che potete comprarlo all'uscita e vi aspettiamo al bar se volete per un piccolo rinfresco grazie ancora e buona salta a tutti grazie 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 a tutti grazie a tutti grazie a tutti